Oggi torna la rubrica Trova il Bias e torna in grande stile con la notizia di apertura addirittura dedicata a questa rubrica notizia legata a un tema molto di attualità ovvero una nuova possibile pandemia che però pandemia proprio non dovrebbe essere del virus Nipa. Parliamo anche di fonti fossili con un nuovo mega progetto estrattivo di petrolio in Regno Unito gli aiuti nascosti delle banche alle compagnie fossili e una maxi causa di 6 adolescenti contro 32 stati del mondo. Io sono Andrea Lellinocenti, oggi è il 28 settembre 2023 e questa è Non Mi Rassegno, adesso è una stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Allora oggi ve lo dico subito partiamo con una cosa un po' anomala ovvero apriamo la puntata con il richiestissimo e attesissimo ritorno della vostra rubrica preferita nonché quasi unica rubrica di Non Mi Rassegno ovvero Trova il Bias, la rubrica in cui identifichiamo diciamo gli errori logici presenti negli articoli dei giornali tra l'altro torna nella sua nuova versione con dei premi veri e una serie di nuove caratteristiche che però magari vi spiego alla fine di questa prima notizia e ho deciso di mettere Trova il Bias in apertura non per dare particolare risalto al ritorno della rubrica ma perché il bias di oggi si trova proprio in una delle notizie principali di attualità. Ma andiamo con ordine, forse avrete sentito parlare di questo nuovo virus chiamato Nipah che in realtà così nuovo non è che si sta diffondendo in alcune regioni dell'India. Negli ultimi giorni ho letto titoli di giornale molto diversi fra loro con livelli di allarmismo differenti per cui forse è il caso di approfondire. Partiamo dai titoli, proprio dai titoli. Il Sole 24 Ore vince il premio a mio avviso per titolo più allarmistico con Virus Nipah in India. È la nuova pandemia? Seguono i più cauti titoli di diversi altri giornali come Repubblica che titola Il Virus Nipah minaccia il Kerala, che cosa sappiamo? Green Me, Virus Nipah, India in allarme, perché è pericoloso e quanto è probabile una pandemia? Anche questo si avvicina quasi a quello del Sole 24 Ore. Wired, che titola India, cos'è il virus Nipah che sta mettendo in allarme il paese? Per arrivare poi ai più rassicuranti, cosa sappiamo della piccola epidemia del virus Nipah di Health Magazine? E Virus Nipah dai pipistrelli, cos'è e quanto è pericoloso, allarme in India, ma non sarà una nuova pandemia del messaggero. Ma quindi, come stanno le cose? Che cosa è questo virus e quanto e se ci deve preoccupare? Andiamo a leggere proprio l'articolo del Sole 24 Ore, scritto da Francesca Cerati, che dice, che scrive, anzi, L'India sta adottando misure urgenti per fermare la trasmissione di un virus raro ma mortale che si diffonde dai pipistrelli agli esseri umani. È l'anticamera di una nuova pandemia? La storia di Nipah, Virus RNA, comparso per la prima volta in Malesia nel 1998, farebbe escludere questa possibilità, in quanto fino ad oggi non si trasmette facilmente. Ed ecco che già nel primo paragrafo abbiamo più o meno la risposta che stavamo cercando alla domanda del titolo, pur con il condizionale d'obbligo. Comunque, continuo a leggere, Nonostante il suo potenziale letale, il virus Nipah non si diffonde così facilmente fra le persone come fanno altre infezioni di origine animale, il che rende meno probabile la sua diffusione oltre i confini nazionali, afferma Daniel Anderson, virologa della Royal Melbourne Hospital in Australia. Non mi aspetto che si diffonda a livello globale nella misura che abbiamo visto con il Covid-19. Anche per un altro esperto, Christopher Broder, specializzato in malattie infettive emergenti presso la Uniform Service University Medical School di Bethesda nel Maryland, l'alto tasso di mortalità del virus offre meno opportunità di diffondersi rapidamente fra le popolazioni. E lo stesso esperto poi aggiunge che il ceppo circolante in Kerala non è cambiato molto da quando è emerso per la prima volta più di due decenni fa in Bangladesh, anche se le future epidemie potrebbero essere più grandi se si trasformasse in un ceppo più lieve ma più contagioso ed è probabile che esistano già varianti che non sono state ancora rilevate. Alcuni scienziati poi temono comunque che l'epidemia indiana, che è la quarta a colpire il Kerala in cinque anni, e quindi la maggiore diffusione delle infezioni fra le persone, possa portare il virus a diventare sempre più contagioso, perché ogni epidemia, leggo un altro virgolettato, offre alla gente patogeno l'opportunità di modificarsi. In effetti, scrive ancora la giornalista, anche se il valore R di Nipa, il valore R, l'abbiamo conosciuto abbastanza bene col Covid, è quel fattore che misura la diffusione del contagio in una popolazione, è attualmente basso, circa 0,33, il che significa che è improbabile che l'infezione si diffonda lontano dalla sua fonte animale, se gli animali infetti dovessero essere trasportati nelle grandi città, l'aumento della densità di popolazione aumenterebbe il rischio di trasmissione da persona a persona, che potrebbe consentire al virus di evolversi, innescando nel tempo una nuova pandemia, uno scenario che abbiamo già visto. Il virus Nipa è stato rilevato per la prima volta più di due decenni fa, a seguito di un'epidemia fra gli allevatori di suini in Malesia, nel giro di pochi mesi si è poi diffuso a Singapore attraverso i maiali infetti, l'epidemia ha provocato quasi 300 casi e più di 100 morti, da allora non sono mai stati segnalati altri focolai di Nipa in Malesia, ma nel 2001 il virus è emerso in Bangladesh e in India, dove le epidemie hanno continuato a divampare periodicamente. Vi riassumo io il restante contenuto dell'articolo, che dice più o meno che all'inizio si pensava che non fossero possibili le infezioni direttamente da uomo a uomo, ma solo da animale a uomo, ma poi uno studio del 2019 su circa 250 casi ha mostrato, ha visto che nell'arco di 14 anni circa un terzo delle infezioni umane sono state trasmesse ad altre persone, e da qui fra l'altro si collega al valore R di 0,33, che è esattamente un terzo. Un terzo delle persone trasmette il virus. Poi l'articolo spiega i sintomi, che sono quello principale alle encefalite, ovvero il gonfiore del cervello, i pazienti sviluppano febbre, lamentano mal di testa, uno stato di sonnolenza e confusione, e appunto in diversi casi, circa un caso su tre, sempre il virus risulta letale, non risultano ad oggi farmaci specifici, né vaccini, anche se c'è in fase 1 di sperimentazione un vaccino mRNA prodotto sempre da Moderna, in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases statunitensi. Vi dico la mia, si tratta a quanto pare di un virus che conosciamo da oltre 20 anni, anzi da 25 anni per l'esattezza, di cui in pochi avevano sentito parlare finora, che però ha già causato qualche epidemia negli anni passati, alcune neanche così piccole, ad esempio appunto la prima, Singapore, la prima importante, ha causato circa 100 morti e 300 persone infette. Questa epidemia di adesso in Kerala è più preoccupante delle altre, perché se ne sta parlando obiettivamente più che in passato. Quante persone sono morte, ad esempio? Sono rimasto colpito dal fatto che l'articolo del Sole 24 Ore non cita questo dato, che in genere è uno dei primi che si citano in questi casi. Allora, ho fatto un po' di ricerche su Al Jazeera e su Indian Express, ad esempio, e la risposta è due. Sono morte due persone, che per carità ovviamente ogni vita umana è preziosa, ogni vita in generale è preziosa, però non mi sembra che ci siano i presupposti, ecco, per parlare di una nuova pandemia. Tutto è possibile ovviamente, non possiamo escludere che questa cosa succeda in assoluto, il fatto che il virus muti e diventi un nuovo, insomma, la causa di una nuova pandemia mondiale, ma le probabilità alla situazione attuale sono molto, molto, molto basse alla pari di tanti altri potenziali virus che possono mutare. Anche perché, ecco, l'aspetto fra virgolette positivo, fra molte virgolette, e passatemi il termine, di un virus ad alta mortalità come questo e anche ad alta, a rapida incubazione, è che è facilmente contenibile proprio perché molte delle persone che si ammalano e lo contraggono e si ammalano purtroppo muoiono, e muoiono abbastanza velocemente. Ma allora, perché parlare di possibile nuova pandemia? Qual è in questo caso il bias in cui è incappato il titolista o la titolista del Sole 24 Ore? Poi possiamo ragionare se l'ho fatto apposta, se è stato un errore, ma diciamo il meccanismo mentale alla base di un titolo come questo. E ci tengo a specificare che non è la giornalista che ho citato prima in questo caso, perché quasi tutte le testate medio-grandi hanno proprio la figura del titolista o della titolista, colui che o colei che sceglie i titoli di tutti gli articoli o almeno tutti gli articoli di una sezione, se si parla di grandi testate. Se non sapete cosa siano i bias, perché non avete mai partecipato a questa rubrica, dice si bias cognitivo, quel meccanismo mentale che ci porta a fare dei falsi ragionamenti. Considerate che il nostro cervello deve fare un lavoro enorme e costante di decodifica della realtà e nel farlo prende un sacco di scorciatoie che sono chiamate euristiche. Sono necessarie, non è che sono sbagliate. Alcuni di questi scorciatoie però sono appunto fallaci, in quel caso parliamo di bias cognitivi. Sono errori dettati proprio dalla biologia del nostro cervello che ci traggono in inganno o, se usati diciamo in malafede, possono trarre in inganno chi ci ascolta o i nostri lettori in questo caso. E quindi sono appunto dettati dalla biologia e nessuno ne è esente. Possiamo trovarli ricorrenti sia in noi che negli altri e sono simili, sono diciamo clusterizzabili, sono organizzabili perché più o meno la biologia del cervello umano è la stessa. Tant'è che ne sono state fatte diverse classificazioni e tassonomia che trovate facilmente online. Vi do qualche informazione di servizio su come funziona questo gioco. Per vincere questa prima edizione a premi dovete inviarmi via mail e solo ed esclusivamente via mail all'indirizzo andrea.deglinocenti chiocciolaitaliachecambia.org mi raccomando degli innocenti con una I sola nel mezzo perché il mio nome si scrive con l'apostrofo ma nell'apostrofo nella mail non ci sta. E dovete scrivere a questo indirizzo il nome del bias non solo descrivere nel meccanismo voglio proprio il nome. Ci sono almeno due o tre risposte corrette perché i nomi variano a seconda della classificazione a cui fate riferimento ma voglio un nome. Il premio di questa prima puntata che andrà a tutti coloro o tutte coloro che risponderanno correttamente entro domani sera venerdì 29 settembre è un anno di abbonamento a Italia che cambia che potete usare per voi se non ce l'avete o se siete già abbonati e abbonate potete regalare a chi volete. Ultima cosa la soluzione e l'eventuale vincitore o vincitrice saranno comunicati via newsletter sabato 20 settembre quindi se volete partecipare e sapere se avete vinto dovrete iscrivervi alla newsletter di Io non mi rassegno che trovate sia in descrizione del video che del podcast che sulla pagina rassegna stampa passiamo alla seconda notizia continuo l'atteggiamento ambigo di molti governi e istituzioni statali verso il petrolio e i combustibili fossili in generale con molte promesse di abbandono e piani di transizione ecologica da un lato ma anche un costante finanziamento e approvazione di nuovi progetti estrattivi dall'altro l'ultimo caso è quello della Gran Bretagna in cui un organo regolatore dell'energia ha dato il via libera allo sviluppo del più grande giacimento petrolifero non sfruttato del Regno Unito a largo delle Shetland scatenando l'indignazione degli ambientalisti scrivono Mark Sweeney e Matthew Taylor sul Guardian la decisione del regolatore britannico per il petrolio e il gas di concedere alla Equinor quotata a Oslo e alla britannica Itaca Energy il permesso di sviluppare il giacimento di petrolio e gas di Rosebank nel mare del nord è stata condannata dalla deputata dei Verdi Caroline Lucas come il più grande atto di vandalismo ambientale della mia vita il giacimento ha il potenziale di produrre 500 milioni di barilli di petrolio nel corso della sua vita che una volta bruciati emetterebbero tanta nitrite carbonica quanto il funzionamento di 56 centrali elettriche a carbone per un anno il ritmo di produzione sarebbe di circa 69 mila barilli al giorno di petrolio ovvero circa l'8% della produzione giornaliera del Regno Unito gli attivisti ecologisti fra cui anche Greta Thunberg avevano chiesto al governo britannico già da diversi mesi di fermarne lo sviluppo sostenendo che fosse in contrasto con il piano britannico per un'economia a zero emissioni ma appunto in realtà alla fine la concessione è stata data come ha dichiarato Philip Evans attivista Greenpeace UK per il clima Rishi Sunak ovvero il premier conservatore del Regno Unito ha dimostrato una volta per tutte che mette i profitti delle compagnie petrolifere al di sopra dell'agente comune sappiamo che fare affidamento su combustibili fossili è terribili per la nostra sicurezza energetica per il costo della vita e per il clima tra l'altro come nota anche Simon Francis coordinatore della N-Fuel Poverty Coalition nascosto fra le clausole dell'accordo c'è il fatto che questo progetto può essere portato avanti solo grazie a una massiccia agevolazione fiscale che il governo sta concedendo al gigante internazionale del petrolio e del gas Equinor come si è giustificato invece il governo britannico di fronte a queste accuse vi leggo quello che dice Claire Coutinho segretario di stato per la sicurezza energetica e il net zero ovvero gli obiettivi di emissioni zero del governo inglese che ha detto che il Regno Unito deve essere pragmatico una parola che troviamo spesso nella dialettica di finanzia le fonti fossili dato che si prevede che il petrolio e il gas saranno ancora necessari per un quarto del fabbisogno energetico del paese fino al 2050 la scelta che abbiamo di fronte è la seguente ha detto chiudiamo il nostro petrolio e il nostro gas lasciandoci dipendere da regimi stranieri perdiamo 200.000 posti di lavoro in tutto il Regno Unito importiamo il carburante con un'impronta di carbonio molto più elevata e perdiamo miliardi di gettito fiscale siamo leader mondiali nella riduzione dell'emissione di carbonio ma per quanto ambiziosi dobbiamo essere pragmatici ecco queste sono state le sue dichiarazioni che sono un po' le classiche dichiarazioni e risposte che danno i governi in questi casi che hanno ovviamente così delle verità di fondo non sono completamente campate in aria ma mi chiedo il modo migliore per emanciparsi ad esempio da governi e regimi stranieri che qui c'è la solita solita retorica adesso legata alla Russia e alla questione geopolitica complicata dal punto di vista internazionale è davvero aprire un nuovo mega giacimento peraltro affidato a un'azienda norvegese quindi neanche nazionale non sarebbe meglio forse accelerare dico nella transizione energetica verso i rinnovabili e lavorare a un piano di sostanziose riduzioni dei consumi energetici perché magari quello è un piano ancora più resiliente e poi visto che tanti lavori andranno persi comunque nei prossimi anni perché c'è sempre poi la retorica di fondo anche del lavoro perso sia per via della transizione ecologica ma anche per via dell'intelligenza artificiale e di una sostituzione progressiva del lavoro umano con quello delle macchine degli algoritmi non sarebbe meglio concentrarsi proprio sul cambiare i sistemi di distribuzione del reddito svincolandoli dal lavoro salariato non dico che sia semplice perché non lo è ma forse ecco cose del genere domande del genere un governo di ampie vedute dovrebbe iniziare a farsele sempre a proposito di aiuti all'industria agonizzante peraltro del fossile restiamo sul Guardian per vedere un'inchiesta molto interessante che in pratica rivela degli aiuti diciamo nascosti del settore bancario alle compagnie fossili in pratica da quando è entrato in vigore l'accordo di Parigi quindi parliamo del 2015 molte grandi banche europee come Deutsche Bank HSBC Barclays BNP Paribas e Credit Agricole le due ultime sono francesi hanno permesso alle compagnie fossili di recuperare più di mille miliardi di euro dai mercati obbligazionari per sostenere progetti di espansione di petrolio gas e carbone è una forma di supporto meno visibile e diretta rispetto ai prestiti ma comunque molto sostanziosa tutto questo fra l'altro mentre gli stessi istituti di credito davano molta visibilità e pubblicità ai loro sforzi di togliere gradualmente supporto alle fossili e questa leggo dall'articolo è probabilmente solo la punta dell'iceberg perché sotto la lente sono finite infatti solo una piccola porzione delle transazioni finanziarie che possono garantire supporto alle fossili i mille miliardi di euro sono il denaro mobilitato da appena 1700 emissioni obbligazionarie selezionate perché riferite a compagnie che hanno esplicitamente affermato di voler continuare a espandere i loro progetti di estrazione delle fossili ma appunto sarà realisticamente è solo una piccola fettina della torta il punto di partenza di questa operazione è che reperire fondi sui mercati finanziari per questo tipo di operazioni è diventato via più difficile e costoso anche in termini di immagine negli ultimi anni soprattutto dopo l'accordo di Parigi e questa inchiesta dimostra appunto che dal 2016 fra i diversi modi per reperire risorse da parte delle compagnie fossili la quota delle obbligazioni ha fatto un balzo in avanti notevole da circa il 30% del 2015 si è passati al 50% nel 2020 soprattutto a scapito del più tradizionale strumento del prestito che è anche più visibile transazioni invece quelle legate ai bond che le banche difficilmente fanno valere nei loro bilanci di sostenibilità e quindi risultano molto più green di quanto effettivamente non siano ma come funziona questo meccanismo perché potrebbe non esservi del tutto chiaro provo a sfigarvelo nelle parole dello giornalista Gillian Ambrose che firma il pezzo sul Guardian le obbligazioni sono emesse dalle società del fossile per raccogliere fondi per progetti specifici o per le loro operazioni generali esse fungono di fatto da pagherò fra le società e gli investitori che acquistano l'obbligazione le banche percepiscono commissioni per la sottoscrizione e la commercializzazione delle obbligazioni ai loro clienti e ad altri investitori nonché per la fornitura di servizi di consulenza o amministrativi le banche sottoscrittrici garantiscono le vendite delle obbligazioni acquistandole prima di venderle agli investitori sul mercato obbligazionario globale in genere una singola emissione obbligazionaria prevede l'aiuto di più banche in pratica la compagnia del fossile di turno emette delle obbligazioni dei bond ovvero delle azioni con una certa scadenza che servono a tirare su liquidità immediata con cui finanziare i propri progetti le banche fungono da intermediari comprano queste obbligazioni e poi le rivendono ai propri clienti prendendosi ovviamente delle commissioni e una sorta di obolo anche per i servizi di consulenza eccetera ma facendo così possono da un lato finanziare l'industria del fossile ma dall'altra dire dichiarare che non lo finanziano perché appunto non sono i destinatari di queste obbligazioni ma sono solo degli intermediari questo è un po' il meccanismo secondo l'inchiesta Deutsche Bank sarebbe la banca europea più attiva su questo fronte seguita da altri colossi bancari europei come le britanniche HSBC e Barclays e le francese Credit Agricole e BNP Paribas mentre per quanto riguarda le compagnie che hanno più beneficiato di questo meccanismo al primo posto c'è la compagnia petrolifera statale messicana Petroleos Mexicanos seguita da Petrobras Rosenheft Shell e BP chiudiamo con una notizia sempre in tema va dal tenore abbastanza diverso restiamo sul Guardian visto che ci siamo dove la corrispondente ambientale Sandra Laville racconta dell'incredibile causa intentata da 6 adolescenti contro 32 stati nel mondo leggo mercoledì scorso una bambina portoghese di 11 anni si è seduta nella grande sala della corte europea dei diritti dell'uomo per affrontare 86 avvocati di 32 nazioni nella più grande azione legale sul clima del mondo Mariana Agostinio era accanto a suo fratello sua sorella e suoi cugini due file indietro rispetto ai 17 giudici per i diritti umani a pochi metri di distanza squadre di avvocati in abito nero proveniente da tutta Europa erano in piedi per argomentare perché i paesi che rappresentavano non dovessero fare di più per affrontare il riscaldamento globale Agostinio era rimasta in piedi mentre i giudici guidati dalla presidente della corte si offre a Oliri entravano per prendere posto Oliri ha detto all'aula gremita il caso riguarda gli articoli 2, 3, 18 e 14 della Convenzione Europea sui diritti umani per quanto riguarda l'impatto del cambiamento climatico che prova andate di calore e incendi che colpiscono la vita e la salute dei ricorrenti fuori dalla corte a Strasburgo i sei giovani portoghesi sono stati sostenuti da attivisti provenienti da tutto il mondo con cartelli che recitavano siete eroi restate forti e amore e coraggio l'articolo è molto più lungo e dettagliato descrive questo ennesimo caso molto interessante ed emblematico di cittadini e cittadine in questo caso adolescenti che portano in tribunale stati o aziende un fenomeno in crescita e che continueremo a tenere d'occhio se vi interessa l'articolo e leggete l'inglese ve lo lascio sotto fonti articoli sulla pagina rassegna stampa di davicambia.org va bene noi per oggi ci fermiamo qua io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre per dire la lotto su canale youtube speaker e spotify nonché sulla pagina rassegna stampa di davicambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi chi si rassegna è perduto